Buonasera, benvenuti a questa eh zuppa serale ed economica eh sapete il primo ad essere arrivato qua è Giorgio Caschetto lo saluto ciao Giorgio e benvenuto alla nostra zuppa serale e stanno arrivando anche gli altri amici eccolo qua ehm eh stanno arrivando tanti altri amici e tra poco arriverà Leopoldo Gasbarro ci presenterà l'ospite di questa sera fatemi dire semplicemente che il tema di questa sera così lo inquadro buongiorno a Stefania Busiol che questa volta è arrivata un po' tardi seconda sto scherzando Stefania che cosa succede? Succede che sono almeno tre quattro mesi che il sottoscritto parlava del rischio inflattivo cioè che cosa succede? Aumentano i prezzi aumentano i prezzi perché c'è una grande ripresa ci sono poche materie prime mancavano i semiconduttori mancavano ehm adesso anche le materie prime alimentari Leopoldo ha fatto un pezzo che potete leggere eh i sei motivi tra poco ci spiega esattamente di che cosa si tratta lo trovate sul sito andate a leggervelo però il tema fondamentale è che quando l'inflazione sale non solo non avete la possibilità di comprarvi la macchina adesso Stellantis ha detto che il 40 per cento della produzione è ridotto e probabilmente avrete tensioni sui prezzi ma aumentano i prezzi e l'adesione e l'adeguamento eh dei vostri redditi ai prezzi che salgono quindi alla riduzione della capacità d'acquisto dei vostri stipendi è la grande malattia moderna che si chiama inflazione pensavamo che era una bestia che ci eravamo portati eh alle spalle in realtà non è così con Leopoldo ne parliamo sui mercati finanziari ma anche sull'economia reale basta ciance uniamo subito Leopoldo alla nostra conversazione ciao Leo buonasera ciao Nicola buonasera buonasera è stato un un fine settimana col botto quello del dell'articolo di cui parlavi tu perché io ho soltanto raccontato quello che sta succedendo cercando di essere un po' semplice per raccontare poi a tutti effettivamente quelle che sono le problematiche tra l'altro stiamo preparando altri due o tre articoli per spiegare ancora meglio perché nel nell'unico articolo che abbiamo pubblicato ieri non potevamo naturalmente raccontare proprio tutti gli aspetti dei conditi che ci sono dietro stiamo intervistando anche delle delle persone che fanno del lavoro con il grano e con le materie prime naturalmente la loro principale attività e questa sera abbiamo anche un ospite con noi che è Riccardo Maria Monti che tu magari potrai eccolo qui Riccardo buonasera Riccardo lui buonasera buonasera a voi anche il presidente dell'interporto sud Europa per cui potrà anche raccontarci dal punto di vista della logistica perché la logistica è un tema importante quello che sta succedendo diciamo che io e Riccardo siamo accomunati da una fazione sportiva molto azzurra visto che l'Italia ha vinto oggi siamo tutti contenti no scherzi a parte la situazione che stiamo vivendo è una situazione di di informazione che noi stiamo cercando Nicola di fare con tutti i nostri canali a chi ci ascolta a chi ci segue che c'è chi l'ha presa un po' eh in maniera molto forte c'è chi dice che siamo un po' dei detrattori della verità o che stiamo in qualche modo creando scompiglio no la situazione l'hanno scritta tra l'altro anche tantissimi altri giornali se l'andate se l'andate a vedere però c'è una situazione per esempio per il grano perché io parlavo anche della pasta che potrebbe sparire che in questo momento ha raggiunto dei prezzi altissimi rispetto a prima per colpa della siccità che c'è stata nel nord america e in australia che sono i paesi dove si produce più grano quest'anno c'è stata una riduzione del 40 50 per cento della produzione internazionale l'altro ieri il canada ha deciso di interrompere i rapporti di esportazione del grano con l'italia perché secondo loro i prezzi in italia erano troppo bassi rispetto a quello rispetto a quelli che stanno fissando loro e tante organizzazioni legate al mondo della produzione di alimenti che vengono fatti con il grano cominciano a dire ci potranno essere in primavera o addirittura prima in italia problemi con la distribuzione del grano fammi ringraziare leopoldo i nostri finanziatori come sempre perché il primo a finanziare le nostre zuppe e soprattutto il nostro sito nicolapauro.it leopoldo gasbarro è tullio iaria con un super sticker è arrivato l'ho fatto vedere per primo diamo subito la parola francesco monti che ha un osservatorio che ci spiega che cos'è importante per capire quello che sta succedendo cioè abbiamo fame ma non abbiamo eh materie prime? Beh allora bisogna capire che tutto quello che noi vediamo nelle nostre case, nei nostri supermercati e nella nostra economia arriva da una filiera logistica che a differenza del passato in cui c'era un concetto di storage molto importante di fatto è una filiera logistica che lavora just in time quindi per motivi finanziari eh non si approvvigionano in termini di eh grandi magazzini di materie prime ma si aspetta la merce che arriva prima parlavi Nicola di Stellantis ci sono nel mondo una settantina di impianti di produzione automobilistica che sono fermi per mancanza di chip eh in una macchina dieci anni fa ci andavano cinquanta cento chip oggi in una buona macchina sono fino a quattro cinquemila chip è ovvio che la carenza di chip ferma la produzione delle macchine ehm quello che è successo in questi mesi è una tempesta perfetta sulle filiere logistiche perché perché ovviamente c'è stata una ripesa della domanda c'è stata una grossa eh spinta speculativa sui noli se parliamo del carico secco eh l'aeronor quindi il materiale ferroso e il carbone sono saliti i noli del quattrocento per cento eh l'incidenza su una tonnellata di materiale ferroso passa da cinque centesimi per tonnellata trenta centesimi per tonnellata la regolamentazione covid ha rallentato le operazioni nei porti cinesi che attirano aeronor da Australia e Brasile quando c'è un rallentamento di questi processi di carico e scarico si crea una coda il prezzo come voi ben sapete si fa sulla domanda marginale quindi se c'è una domanda per cento tre e un'offerta per cento gli ultimi tre sono quelli che fanno schizzare il prezzo quindi sono delle vere e proprie aste questa cosa sta mettendo in granissima difficoltà noi abbiamo in mente la filiera food abbiamo in mente le costruzioni ma immaginate la filiera del legno il legno è cresciuto dal trecento a quattrocento per cento come il gas e quindi abbiamo moltissime commodity che hanno avuto un per tre per quattro quando ci carichi l'incremento del costo del trasporto la mancata disponibilità di trasporti in più c'è l'elemento geopolitico con anche eh una serie di eh schermaglie sulla componente di volontà di fare trading a parte diciamo le negoziazioni in corso a parte Brexit che ha generato un vero e proprio disastro logistico eh l'Inghilterra era già in pieno occupazione ha perso un milione di persone dall'est Europa ed è sostanzialmente appunto il logistico letteralmente in ginocchio sostanzialmente abbiate pazienza c'è Giordano Riello che è un amico e un grandissimo imprenditore perché è un ragazzo che si è messo da solo a fare una cosa innovativa con delle luci e vive di chip eh nel senso che ha eh tecnologia italiana ma che ovviamente come diceva Riccardo prima ovviamente queste robe qui sono ormai una filiera logistica per la quale non c'è un paese che può essere eh indipendente del resto del mondo e io non so se quello che ha scritto e i termini con cui si è scritto ma essendo lui un imprenditore che di queste cose si nutre ogni giorno un chip da 3,5 euro a 817,9 dollari per singolo pezzo non possiamo competere adesso mi sembra un aumento del la cosa assurda sui però Giordano è una persona talmente seria di cui io o c'è un errore di battitura oppure poi magari gli chiedo Giordano di riscriverci però la cosa assurda sui chip che tu immagina e noi l'abbiamo scritto c'è un articolo che ho firmato proprio io all'interno del del nostro sito il 92 per cento dei chip mondiali è prodotto a Taiwan ed è prodotto da un paio di fabbriche cioè è un'allucinazione mentale Riccardo Monti prima parlava della logistica qui stiamo parlando dell'assurdità proprio perché poi i chip li mettono dovunque dovunque Pinci Petrone dice bravo Nicola di invitare Riccardo ma c'è pure gli amici tuoi Riccardo però non è che puoi riempire i nostri commensali comunque Pigi è un altro grande imprenditore stiamo parlando di gente che lavora sul serio farmaceutico eh farmaceutico si occupa della logistica e e durante il covid ne ha ne ha viste di tutti i colori scusami Leopoldo ogni tanto siccome ci sono molti amici e gli si voglio salutare prego assolutamente dicevo che l'assurdità è questa concentrazione di potere in in pochissime mani il 92 tant'è vero che se ne stanno lamentando tantissimo anche negli Stati Uniti per aver fatto proprio una considerazione sballata nella cessione della produzione al al mondo dice Giordano caro amico non c'è errore di battitura cioè ragazzi Riello ci ha appena detto che siamo passati un chip da tre tre mezzo quattro quattro euro a ottocento dollari e dice non c'è errore di battitura purtroppo il chip è anche di produzione st che sarebbe st micro elettronics ve la ricordate la vecchia azienda di Pistorio italo francese azienda appunto italo francese fammi sentire ancora Monti su questo però perché io voglio sapere una cosa e e visto che ti occupi della logistica che è il termometro e Leopoldo ha fatto questi pezzi che ci hanno preoccupato ma anche molto interessato è un fenomeno vabbè no adesso ancora per venti giorni stringiamo i denti poi a Riello e i nostri amici diciamo tra un po' però si risolve sto problema purtroppo allora in questo momento la logistica sta passando da un problema esplicitamente esclusivamente economico a un problema geostrategico di sicurezza l'Europa e gli Stati Uniti hanno capito che non posso dipendere da single source per una cosa vitale abbiamo parlato delle auto ma non parliamo dell'elettronica in questo momento c'è shortage di telefonini se parli con LG con Xiaomi con Samsung c'è l'Europa che aspetta i carichi che arrivano e i distributori sono affamati ordino 100 gli arrivano 8 10 pezzi per la campagna di Natale l'elettrodomestici quindi questa diciamo concentrazione clamorosa della produzione chip che sembrava un tema economico cioè massa critica mega impianti iper efficienti cominciano a intaccare la sicurezza e l'indipendenza economica di intere aree geografiche e Rodolfo Corradetti dice signori dobbiamo tornare a produrre da LinkedIn che è in diretta con noi signori e signori dobbiamo tornare a produrre in Europa ed uscire dalla tenaglia cinese se davvero la Cira si riprenderà Taiwan sarà un disastro per tutti come rispondiamo sicuramente che la distribuzione deve essere uniforme a livello a livello di continenti perché non è possibile creare un un potere come quello perché poi il chip ormai lo mettiamo in qualsiasi in qualsiasi strumento abbiamo abbiamo tra le mani giustamente Riccardo diceva telefonini auto pensate che ieri è uscita la notizia che Alfa Romeo ha deciso dal 2023 di produrre auto solo su ordinazione cioè io vado lì gli chiedo una macchina e poi aspetto 18 mesi per avere la macchina che che mi faranno proprio perché ci sono negli Stati Uniti decine e decine di parcheggi con centinaia di auto come diceva Riccardo che non posso essere vendute proprio perché mancano i chip e stanno crescendo a dismisura una critica a Monti e a noi scusi Monti tanto io conosco Riccardo e c'ha le spalle talmente larghe che risponde a tutte le critiche i suoi ragionamenti vanno bene e ha riflettuto una certa e ha riflettuto una certa e riflettuto una certa utilità buona per tutti molto più semplicemente mi pare che ci sia una spiegazione semplice covid uguale bassa domanda uguale bilanci scarsi ma delle prime ai minimi ora i produttori di materie prime si rifanno sui mercati dei consumatori beh è ovvio che eh siamo passati in pochissimi mesi da uno scenario di eh minimi di domanda su tantissime fide economiche a uno scenario di eh massima domanda associato ai vincoli sulla mobilità delle persone del covid ripeto in questo momento andare in Cina è letteralmente un incubo perché devi fare tre settimane di eh quarantena in un covid hotel dove se apri la porta due volte al giorno ti dico perché hai aperto la porta due volte al giorno quindi immaginate cosa vuol dire questo sulla filiera logistica spostare uomini e mezzi questa cosa qui è ovvio che il covid è l'elemento di che fa deflagrare questa cosa qua diciamo non l'abbiamo detto semplicemente perché è ovvio che il covid è la concausa di tutto questo e il riassorbimento di questo fenomeno però è molto molto complicato perché come ho detto si è creata una una coda in questo momento tu ordini il carbone te lo consegnano non a novembre come sarebbe stato in un momento normale ma te lo danno a febbraio quindi tutte le materie c'è un problema di domanda un problema di offerta un problema di speculazione anche finanziaria sui mercati dei noli i noli sono saliti del 400 per cento sul sulla granina secca sul petrolio non tanto infatti questo momento non c'è uno shortage petrolio eh non c'è un problema di logistica petrolifera perché diciamo essendo una filiera dedicata e quella delle mega petroliere tutto sommato la catena logistica petrolifera ha retto anche se il petrolio è cresciuto del 250 per cento invece abbiamo problemi molto seri su acciaio carbone eh e granaie varie perché dice Gia Gia lui insomma lo chiedo a te Leopoldo perché i mercati finanziari sono sempre sui massimi se questo è lo scenario noli altissimi perché diciamo diciamo che negli ultime nelle ultime settimane qualcosa è cambiato come intonazione c'è molta più fibrillazione sui mercati però parallelamente c'è talmente tanta liquidità in giro che nel momento in cui i mercati correggono di due tre quattro punti o alcuni titoli importanti correggono di di una dimensione più più consistente poi c'è chi rientra questa è l'anomalia anche di 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 questo periodo però se andiamo a vedere comincia ad esserci una selezione molto diversa rispetto a prima rispetto ai titoli che vengono scelti ti faccio un esempio proprio l'altro giorno il sito di Standard & Poor che va a dare tutti i dettagli di quello che avviene all'interno dei titoli dell'indice si lamentava in qualche modo rifletteva sul fatto di come per la prima volta ci fosse una distanza enorme tra la percentuale di titoli legati all'energia che in questo momento stanno guadagnando terreno rispetto a tutti gli altri se pensiamo che nel 1970 si parlava delle sette sorelle dell'energia i titoli più importanti del della borsa americana erano tutti i titoli energetici oggi tutti i titoli dell'energia pesano due terzi di quello che pesa Apple capiamo che il mondo è cambiato naturalmente in maniera straordinariamente importante in questi anni tornando al discorso che faceva Riccardo sto tornando al discorso che faceva Riccardo io ho fatto un esempio molto semplice per far capire la gente quello che sta succedendo Nicola cioè immaginate che il covid con il lockdown sia una lunghissima autostrada a dieci corsie no questa autostrada dal dal punto di vista della produzione è stata bloccata al lockdown si è creata una coda infinita questa coda infinita prima di ripartire ha creato alcuni problemi alcune auto che potrebbero essere imprese che sono fallite prima di rimettere a regime tutto per ripartire con la produzione pre covid ci voleva tempo la richiesta eccessiva che c'è stata dopo ha generato ancora altri ingorghi o altri blocchi diciamo che chiudere il mondo è stata la scelta peggiore che si potesse fare su questo non c'è dubbio ci volevano delle regole e due due obiezioni due due cose per mettere dentro Riccardo che il nostro eh ospite e diciamo più tecnico Lorenzo Nardacci sì ragazzi ma se produrre in Europa mi costa dieci produrre in Cina mi costa due due io da imprenditore non ci penso minimamente a spostare la fabbrica ora l'enorme rialzo dei costi dei trasporti sta cambiando scenario ma non ancora al punto di ritornare in Europa con la produzione Riello di nuovo che ci segue che produce in Italia in Veneto e fa un mette un elemento sui noli dice l'altra l'altra parte della medaglia da mille e quattrocento a quattordicimila dollari e dice io vivo ma non solo io vivo di export e sono due facce di una stessa medaglia quella di Lorenzo che dice ma perché il reshoring e quella di Giordano che diceva per me per esportare mi è diventato un casino Riccardo allora eh l'anno scorso gli ultimi mesi gli stipendi in Cina sono cresciuti del diciotto per cento in realtà non è più un rapporto di uno a cinque uno a dieci sicuramente la Cina continua a essere estremamente competitiva anche per un effetto di dimensione di massa critica ma con il focus dell'economia cinese che deve con gli ultimi due piani quinquennali passare da un'economia basata su export e investimenti a un'economia più basata sui consumi gradualmente questo fenomeno sta eh si sta riassorbendo non dimentichiamo che la Cina viene da 30 anni di one child policy quindi c'è un problema demografico molto serio comincia a scarseggiare i lavoratori quindi c'è molta meno pressione di masse rurali che si urbanizzano che diventano un manodopera a basso costo quindi è vero che ancora oggi produrre in Cina costa molto di meno ma il rapporto che era uno a dieci una decina di anni fa adesso è più uno a due e piano piano questo gap si andrà riassorbendo. Notizia di servizio intanto dice Giuliano fatemi capire come dare dieci euro per finanziare la materia prima che è la zuppa bravi ragazzi Giuliano guarda manda le cipolle e le patate per la zuppa. Anche perché intanto è arrivato un altro finanziamento qua di Paolo Jay buona serata e buona domenica anche lui un super sticker e lo ringraziamo e aspetta facciamolo vedere eccolo qua Paolo Jay buona serata e buona ma e leopoldo il il tema fondamentale che adesso mi sembra che si sia passati dai noli dalla l'energia tutte cose che abbiamo visto e raccontato alle materie prime alimentari e così? Assolutamente sì perché poi insieme a tutte le altre materie prime ci sono anche quelle alimentari ed il grano di cui parlavo all'inizio è una di quelle che noi italiani poi ecco qui nata in alto mare mitico da sempre e vai dicevo il ma non solo il grano tante altre materie prime dai dai piselli cioè io ieri ho parlato della pasta perché la pasta è un elemento che per noi italiani è prioritario e non so quanti rinunciano ad un bel piatto di pasta asciutta l'ho messo anche nella foto nell'immagine dell'articolo per cui è un elemento essenziale però il il dato è proprio quello che dicevamo tutta questa filiera che si sta interrompendo ha generato insieme a tutti i guai che stiamo vivendo e non è solo quello del pane ma anche quello del gas poi magari ne parleremo perché forse la cosa peggiore di tutte in in questo in questo elemento il il grano che noi non produciamo tantissimo in italia non abbiamo la quantità di grano sufficiente per soddisfare il nostro fabbisogno lo riceviamo soprattutto dal nord america in nord america quest'anno c'è stata una siccità importante che ha ridotto del 40 per cento il la produzione di grano quindi questo ha portato ad una situazione veramente di difficoltà oggettiva di cui non non si può non tener conto poi ci sono state da quello da quello che leggo delle tematiche di problemi politici tra l'europa l'italia stessa e il canada tant'è che proprio notizia dell'altro giorno che il canada ha deciso per adesso di non trasferire quindi più esportare grano verso italia questo potrebbe generare quella problematica di cui scrivevo ieri tra le righe non tanto tra le righe sul sul nostro articolo in cui raccontavo del fatto che in tantissimi pensano che potrebbero esserci delle carenze di grano anche perché il grano non è come il gas che apre un rubinetto il grano ormai la produzione che c'è stata quest'anno è questa bisognerà aspettare l'anno prossimo allora scusami Nicola finisco la cosa peggiore io credo che in questo momento siano gli speculatori però perché in tutti i settori lo stiamo vedendo dal 110 lo stiamo vedendo per certi versi anche a livello internazionale con quello che succede con il gas perché qui il bello il cattivo tempo lo fanno alcuni capi di stato senza fare nomi e cognomi soprattutto del nord europa o del nord europa sì la speculazione nel 110 nel grano e in questi ambiti sta generando ancora più rialzi di prezzi rispetto a quello che dovrebbe essere naturalmente nata Natamore fa la seguente domanda riccardo il nostro grande amico e finanziatore stessa cosa è successa con i dispositivi medici sapevamo da tempo che ci sarebbero state carenze di materie prime e nel settore informatico non potevamo fare una politica estero europea mirata o c'era desiderio di andare sotto la cina devo dire che Natan quando ci rompete le balle adesso io voglio un po' zuppizzarmi cioè cazzo la programmazione economica i grandi piani il recovery fund abbiamo questi burocrati che decidono qual è il nostro futuro il pianeta sta morendo ma non riescono a vedere il presente cioè porca miseria c'era ci riempiamo la bocca di programmazione e c'era una programmazione che forse chip conveniva farli in Europa e non dipendere da Taiwan ma ha detto Leopoldo che il 92 per cento dei chip si fanno in Taiwan e mi dici tu Riccardo che in una in una in una macchina siamo passati a dieci volte più chip e l'Europa non ha adottato si fa le pippe e non ha adottato una politica comunitaria su chip non lo so io penso che ci deve pensare il mercato ma loro che dicevano che ci deve pensare la programmazione e quindi Natan in questo non ha tutti i torti prego Riccardo sì voglio dire un attimo al tema delle delle commodity alimentari io metto il cappello di un ex presidente licea l'Italia è un grande paese trasformatore quindi abbiamo da punti delle commodity alimentari un deficit strutturale sul latte sul grano sulla carne quindi dobbiamo importare trasformare ed esportare però sul grano il grano a certo punto costava 13 euro alla quintale e chiaramente i produttori nazionali hanno dismesso la produzione che era anti economica che negli ultimi anni c'è stata una filiera filiera Italia ci sono dei accordi fatti anche in maniera molto positiva che hanno riespanso la attività di produzione grano in Italia quindi oggi ci sono tantissimi produttori che usano grano italiano però voglio dire questo riaggiustamento va anche inserito un ragionamento di recupero e di recupero della capacità di un paese di bilanciare il proprio interesse anche rispetto a dinamiche non solo strettamente economiche evitare lo spopolamento delle campagne significa creare occupazione virtuosa e significa permettere tali di essere più indipendente anche a punto di vista della filiera alimentare quindi penso che certi aggiustamenti siano anche positivi cioè se il grano è un po' più caro e permette a tanti agricoltori italiani di mettere a grano i terreni abbiamo ribilanciato un'economia che era troppo sbilanciata su importazioni a bassissimo costo e trasformazione e invece riguarda quest'idea che noi abbiamo fatto una progettazione europea intelligente sui settori che sono strategici non ci voleva probabilmente questa crisi per capire che i chip sono non una commodity ma sono un prodotto fondamentale assolutamente sì abbiamo totalmente ignorato l'elemento di sicurezza tecnologica e strategica che ti viene dall'autonomia nel produrre a meno una macro regione come l'Europa non necessariamente nel paese è un tema qualcosa di assolutamente necessario come chip è stato una gigantesca amnesia collettiva negli Stati Uniti la CIA ha fatto due anni fa un famoso report in cui ha detto sostanzialmente siamo totalmente dipendenti su una serie di cose decisive e abbiamo bisogno entro tre anni di attrezzarci per produrre tutta una serie di cose quindi è assolutamente vero che c'è stata una totale amnesia su questo aspetto di sicurezza nazionale e strategica mattia notari quante sono quanto sono correlate inflazione scarsità di materie prime in generale può essere che si stia vivendo ora gli effetti del blocco prolungato dell'economia abbinata alla stampa di moneta esagerata mattia io che sto traducendo De Soto che è un professore di economia di scuola austriaca in italiano per rubettino ti dico la verità noi monetaristi e soprattutto di scuola austriaca quindi un po' meno monetaristi siamo abbastanza convinti che a forza di stampare moneta l'inflazione prima o poi diventerà enorme cosa che ovviamente oggi le nuove diciamo teorie economiche smentiscono perché dicono che siamo in un nuovo paradigma io in questo sono ancora old fashion mattia e che penso più che la scarsità di materie prime perché potrà risolversi nel futuro perché il mercato poi ne produrrà a sufficienza il vero tema è che siamo in una bolla di liquidità tale e di creazione di moneta che prima o poi delle tensioni inflattive ci saranno rispondo io per gli altri perché mi erogo il diritto di essere l'unico austriaco in termini ma poi te lo puoi permettere te lo puoi permettere perché sei competente in materia che poi abbiamo due napoletani un tarantino quindi una trazione regionale fortissima andiamo ma scusate chiedo per mio nipote ma Natale i palentoni ci saranno dipende da che squadra alleni è troppo simpatico allora intanto se Remo perciballi riesce a fare una battuta così e a donarci un panettone 5 euro secondo me il panettone non ci compriamo più ma guarda che simpatia anche dalla foto del profilo no per cui è veramente simpatico Remo eccolo qua guarda qua Remo c'ha l'aria simpatica sin dalla foto a parte eh devo dire veramente simpatico e l'altra domanda no no Riccardo a parte quello il vero tema è che eh e questo lo metto anche sulle piazze dell'altro giorno che poi di cui parlerò domani a quarta repubblica che erano delle piazze esasperate non c'era soltanto il diciamo forza nuova che ha fatto quello che ha fatto che ovviamente da condannare cioè non si non si fanno violenze in piazza però lì c'erano diecimila persone esasperate sarà un autunno ehm preoccupante caldo eh in virtù di questi problemi economici o pensi che mh in realtà dobbiamo stringere i denti ma tra poco la crescita economica porterà i suoi benefici Riccardo? Personalmente il mio osservatorio mi dice che vedo tantissime aziende che stanno lavorando a ehm sviluppare capacità produttiva c'è sicuramente eh in moltissimi settori una difficoltà a reperire personale quindi credo che eh il dal punto di vista occupazionale andiamo verso una ripresa abbastanza solida quindi questo non non dimentichiamo che il settore diciamo secondario in un'economia sviluppata vale intorno al ventidue, ventidè per cento del PIL quindi abbiamo una grande economia di servizi che sta ripartendo e sta ripartendo molto bene per cui eh io credo che eh al di là della diciamo tensione che ci portiamo dietro anche da questo anno e mezzo molto difficile dal punto di vista economico lo scenario sia abbastanza positivo anche per l'Italia eh per quanto riguarda eh quello diciamo prima sulla eh diciamo eh sulla Massimo B non compra il mio olio guarda eh Massimo io compro l'olio dai trattori in aria ma va anche bene ma tu devi comprare la tenuta a Rasciatano lo sai cioè tu vieni qua tu vieni qua Massimo ma guarda che sei più sei più bravo tu a metterlo fuori però devo dire perché l'ho messo fuori ma perché se lo merita Massimo a me piace il panorama mi piace tutto ma se non prendi la tenuta a Rasciatano qua olio e vino siamo fottuti e penso peraltro che quest'anno è uguale a quello dell'anno scorso eh prima dato che chi c'è chi ne capisce di logistica in controdenze europee l'Italia viaggia per l'ottanta per cento su gomma quando cominceremo a fare una programmazione per far salire il livello logistica italiano? Questa è un'altra domanda di Nathan Altamore che devo dire sì però Riccardo effettivamente che di logistica è maestro ci spieghi bene se questo è un altro elemento di maggior costo minore competitivo dell'Italia assolutamente l'Italia eh ha avuto una drammatica eh incapacità di pianificare basti pensare che un porto straordinariamente importante come Gioia Tauro per quasi vent' anni non ha praticamente avuto nessun collegamento ferroviario che è una follia no? Eh ancora oggi diciamo eh paghiamo il fatto che vent' anni fa o trent'anni fa ci siamo dimenticati di pensare i sistemi di trasporti o meno integrati quindi c'era chi pensava agli aeroporti chi pensava ai porti alle ferrovie e c'abbiamo i due principali aeroporti italiani che non hanno un collegamento ad alta velocità mentre in tantissimi paesi anche non di nuova economia non parlo della Cina dove hai l'alta velocità sotto ogni aeroporto ma è normale è considerato normale avere un collegamento ad alta velocità che arriva fin dentro l'aeroporto quindi è sicuramente così negli ultimi due tre anni c'è stato un forte sviluppo della intermodalità eh però chiaramente ci portiamo dietro decenni di ritardo quindi stiamo recuperando ma purtroppo ci vorranno Luca Loide Clark Boscani ad otto oggi siccome c'è un mille e cinquecento persone che fanno domande devo essere un po' tranchant con tutti voi sono una partita IVA ma dove vedete tutto questo rosa nel futuro Luca hai ragione però poi dopo la parola anche gli altri cinque milioni sono in genere gli autonomi in Italia quest'anno eh per la prima volta sono scesi sotto sotto i cinque milioni trecento ventimila partite IVA che non hanno più lavoro per le quali i reti sociali sono solo la famiglia perché la loro protezione è molto inferiore però c'è un elemento che tu ci racconti ogni volta Leopoldo e te lo chiedo è vero eh le partite IVA in difficoltà alcune imprese licenziano le materie prime che salgono e la liquidità in banca che sale ma come mettiamo insieme questa assurda situazione Leopoldo? Allora qui bisognerebbe creare un pizzico di fiducia in più nel paese perché poi io uno dei punti dei sei punti che ho trattato che forse quello che è stato più criticato dell'antico di ieri è stato il fatto che io abbia chiuso dicendo che sono un inguaribile ottimista e giustamente Riccardo prima diceva una cosa da da quello che sta succedendo noi possiamo ripartire e possiamo riprogrammare riprogettare rieditare il nostro mondo in maniera intelligente l'unica cosa che bisogna stare attenti da tenere in considerazione in questo momento c'è un'attenzione Nicola molto forte sul discorso della della trasformazione energetica dell'attenzione al climate change allora ne abbiamo parlato la settimana scorsa se non si è attenti e si pretende di spegnere da un lato un interruttore di fabbriche di attività che funzionano di un certo tipo e lo stanno facendo in Cina e domani mattina accenderne un altro che oggi non esiste questa transizione deve avere i tempi giusti non si io ho sentito ieri Fico che diceva alla camera diceva noi dobbiamo anche aspettarci dei sacrifici sociali importanti all'immediato signori c'è gente che muore di fame nel mondo c'è gente che non ha l'energia elettrica qui stiamo pensando alle energie rinnovabili io chiedo a quanti sono collegati con noi se sanno che cosa significa rinnovabili perché l'altro giorno ero in un gruppo di amici l'ho chiesto a venti persone mi hanno risposto in due tra l'altro erano due ragazzini dei 15 anni per cui capite che dobbiamo entrare in un mondo in cui le nostre competenze crescano ci affidiamo a persone competenti perché come diceva Riccardo fino adesso e come dicevi tu la burocrazia i burocrati anche europei hanno fatto soltanto danni non c'è stata progettazione non c'è stata programmazione non ce n'è programmazione e progettazione e io sono ottimista perché dalle difficoltà uno mette la testa su quello che sta succedendo la liquidità di cui parlavi tu va orientata in parte verso il paese bisogna creare delle sinergie importanti le aziende di questo paese nicola stanno producendo quella ripresa di cui parlava Riccardo prima con numeri anche importanti senza che ancora sia stato speso un euro dei fondi dedicati dall'unione europea quindi significa che questo paese ha una capacità di resilienza di attività di produttività che va al di là di quello di quello che ci dà la politica la politica ci tiene con le mani legate dietro perché poi ci fanno le aggressioni fiscali di di tutti i generi no prima del covid la 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 cga di mestri aveva misurato in tre verifiche ogni settimana da enti diversi per un imprenditore italiano capite che rispetto ai tedeschi che non usano i limiti sulla liquidità fanno quello che cavolo vogliono noi stiamo facendo delle cose straordinarie allora Caterina Castagna Caterina Castagna Porro ieri sera ho letto l'articolo che diceva di comprare pasta e legna e stanotte non ho dormito quanto dobbiamo temere un nuovo 29 Riccardo Monti quanto dobbiamo temere una grande crisi generalizzata sui mercati? Io onestamente non la vedo anche perché c'è una curva di esperienza e anche questa clamorosa diciamo complessità che è stata gestita la pandemia ha insegnato ai governi a fare molto la gestione delle crisi degli ultimi vent'anni ha permesso di affrontare con strumenti molto più rapidi e evoluti se pensate che l'Europa stava saltando sulla Grecia che non vale neanche il 3% del PIL europeo adesso abbiamo gestito una crisi infinitamente più complessa quindi sono ottimista anche perché c'è questa capacità di apprendimento apprendimento del genere umano e quindi anche le autorità finanziarie e monetarie hanno imparato a agire con grande incisività e molto più velocemente se le nostre economie non sono andate a collasso con un lockdown feroce che di fatto è stato in tutto il mondo è dovuto anche a questa capacità che abbiamo imparato nei crisi precedenti e che abbiamo messo a frutto in questo caso. Però però Riccardo scusa mi ti faccio un'obiezione molto semplice su quello che ha detto Leopoldo prima che l'ha detta con l'educazione il garbo che c'ha Leopoldo e non con la mia arroganza urlata ma porca puttana noi siamo un paese che sta su un giacimento di gas nell'Adriatico un giacimento di gas e che sarebbe più il più importante in Europa e noi per motivi dello stracavolo burocratici ambientali e nimi non lo tiriamo fuori cioè ma di che stiamo parlando? Io non neanche mi sto parlando del nucleare. Il discorso dell'energia nucleare abbiamo tutte le centrali francesi di nostri confini tanto per dire Riccardo capisci che voglio dire? Cioè dobbiamo iniziare a urlarle ste cose perché le bollette oggi le paghiamo perché e avremmo pagato di più le bollette se questi cazzoni non avessero fatto la tap cioè abbiamo dovuto insistere per far la tap. La tap dei tuoi amici pugliesi che stuprava le coste se tu vai a fare il bando a San Foca non te ne accorgi neanche che c'è la tap su. Bravo intanto Matteo Notari è il numero uno e con Huerta de Soto non posso ricontribuire all'unica zuppa un po' osterieco Mattio ci capiamo perché Huerta de Soto lo conosciamo in quattro un po' come in Rand però insomma Mattia ce la raccontiamo tra di noi ed è fichissimo sto libro che vedrai tra poco uscirà con Rubettino. Vai Riccardo scusami se ti interrotto. No dicevo la domanda era se vedo un altro 29 non vedo un altro 29 perché ripeto sono convinto che ci sia stata una capacità di apprendere dalle eroe del passato voglio dire noi abbiamo avuto in quattro mesi un accordo europeo sul debito mutualizzato che è stato per vent'anni considerato una bestiemia in chiesa un tabù assoluto ecco questo è quello che dico quando dico che c'è anche una capacità di apprendimento delle istituzioni questo mi fa dire che non vedo un nuovo 29 abbiamo un sacco problemi strutturali un sacco di difficoltà alle partite IVA e tutto il lavoro indipendente autonomo è stato ovviamente più penalizzato questa fase ma non vedo una crisi sistemica e strutturale alle porte ma su questo intanto Nicola Ardente è d'accordo con te Leo eh Nicola Ardente è da limiti di nucleare l'unica via di scena ma noi se pensiamo che abbiamo tutte le centrali noi non facciamo il nucleare in Italia perché abbiamo paura delle conseguenze delle centrali ci può stare però nel momento in cui ci abbiamo tutte le centrali nucleari francesi sui nostri confini non è che il nucleare guarda vado di qua o di là da parte del confine per cui alla fine bisogna ecco qui Roberto Danese dice proprio questo l'altro aspetto che diceva Riccardo un attimo fa sono d'accordissimo con lui il blocco della pandemia lo scoppio la pandemia ha portato nel giro di pochi giorni a perdere il 30 per cento sui mercati internazionali ricordiamo quello che è successo nel 2008 noi lo raccontavamo assieme Nicola mentre negli Stati Uniti facevano i piani di liquidità da 800 miliardi trisce in Europa alzava i tassi di interesse te lo ricordi oggi nel giro di due notti nel giro di due notti dopo che quella io non voglio citarla lo citi tu il l'aggettivo della Lagarde aveva detto ogni paese se la vede da solo il debito pubblico italiano stava saltando tre giorni dopo hanno coperto con la bce il debito pubblico italiano allora capisci che quello che dice Riccardo è perfettamente corretto cioè c'è un' attenzione diversa dalle da parte delle istituzioni soprattutto da parte delle banche centrali anche qui però attenzione a non creare troppo potere nelle banche centrali che stanno socializzando il debito pubblico mondiale perché oggi ne hanno figgi petrone figgi petrone figgi petrone subito la sua domanda monti le imprese italiane vanno sul mercato degli approvvigionamenti ancora troppo singolarmente diversamente da altri paesi della ce e questo penalizza anche la logistica e relativi volumi e prezzi è abbastanza forte questa critica è assolutamente vero c'è un esempio straordinario abbiamo visto il settore moda della Francia che ha creato una trading company per approvvigionarsi tutti i perlami pregiati pitone coccorillo tutto quello che è difficile trovare creando una specie di consorcio d'acquisto che ha permesso di fatto di avere un monopolio mondiale di queste materie molto rare e pregiate sono assolutamente d'accordo che l'associazionismo intelligente deve essere mirato su questo tipo di cose molto concrete che aiutano le imprese non andare a fare lobbying col ministro per chiedere lo scontro al 2 per cento su qualche su qualche balzello ecco quindi sono perfettamente d'accordo con pg petrolio sti francesi la mia amica françoise che è una nostra commensale della prima ora se c'è una ragazza che conosco dai tempi in cui nata la zuppa cinque anni fa è proprio françoise che dice che è una stupenda ragazza francese che vive a cagliari in in sardegna dice sti francesi unici ma è riconosciuto sono stati bravi sono stati bravissimi ma tu immagina tu immagina che ci sono aziende italiane che si sono quotate in francia per il semplice artemis non ti permettere non ti permettere artemis scusami è una cosa personale perché qua c'è un gruppetto di austriano ma smettetela c'ha ragione vai 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 leopoldo scusa no dicevo ci sono alcune aziende per esempio piemontesi che si sono quotate in francia solo perché in francia avevano istituito ipea che sono una sorta di pir che poi sono stati fatti in italia addirittura le aziende italiane andavano all'estero a quotarsi qui invece abbiamo fatto di tutto per evitare che la filiera importante delle imprese italiane prendesse capitale dai risparmi di italiani e se andiamo a guardare i dati delle imprese italiane vediamo che per esempio se prendete l'indice star che va a dimensionare la crescita di una parte molto importante della filiera produttiva non solo delle banche delle assicurazioni che sono quelle che fanno parte degli indici principali negli ultimi cinque anni è l'indice che è cresciuto di più dopo la borsa americana e quindi noi avremmo potuto avremmo potuto avere dei risultati straordinari anche per i risparmi allora e dar 88 non so se ricardo o leopoldo siate sintetici vi prego perché sono 40 minuti che sono volati ma tra un po' la gente la perdiamo buonasera sarebbe interessante un insight da parte vostra sui fondi speculativi io adoro la speculazione qualcuno prima mi criticava perché io invece a differenza vostra penso che la speculazione sia guardare avanti non fare soldi in maniera arrogante e ma sto scherzando leopoldo ovviamente ci intendiamo io parlavo parlavo di chi imbosca non chi di chi fa speculazione appunto è un imprenditore è un altro discorso no? perché chi azzecca bene buonasera si porta avanti va bene insomma eh certo buonasera sarebbe interessante iniziare da parte vostra sui fondi speculativi che stanno facendo storage fisico delle terre rare in elettronica boh eh leopoldo o riccardo conoscete la materia? Ma io un po' l'ho seguita sul litio eh sulla bauxite su tutto quello che alimenta eh la filiera ancora molto elettronica e le batterie eh diciamo c'è stato sicuramente una manovra sistemica da dieci anni del governo cinese per accedere alla fonte quindi i sistemi minerari negli ultimi due anni tantissimi operatori hanno investito pesantemente sull'acquisto di stock fisici eh sono ma che vuol dire cioè comprano proprio le terre fisicamente? no terre rare cioè rare quindi pigliano tutti questi materiali minerali rari terre rare sono questi minerali che alimentano diciamo la filiera dell'elettronica che sono un sette o otto circa e che sono prevalentemente presenti in Africa da Congo alle parte interna dell'Angola eh altri paesi la Repubblica Centroafricana eccetera quindi eh ci sono sicuramente in tanti che hanno lavorato su questo eh ma questo vale anche appunto sul litio eh le aziende di litio che hanno migliere di litio hanno un parallelo investito anche su stockage quindi hanno comprato litio fisico e messo da parte quindi eh e sono gli investitori che fiutano l'aria vedono opportunità di fare un ritorno importante del cento per cento in 12 mesi e ci si lancia un normale capitalismo finanziario in azione. E dice Ambrogio Visconti tutti in Perù a comprare litio o a Londra a comprare futures sul litio? Dice Ambrogio Visconti Leo. Sì guarda la la cosa la cosa importante che sta ecco perché sono anche un inguaribile ottimista Nicola ti invito magari così lo puoi lo puoi far vedere agli amici che ci ascoltano a cercare su internet la mappa della luna ridisegnata per materie prime perché eh se se la facciamo se la facciamo vedere capiamo perché il mondo sta comunque scegliendo e facendo anche altre strade rispetto a quello che che abbiamo vissuto fino ad oggi perché dobbiamo raccontare anche che c'è uno sviluppo importante che va al di là del covid che va al di là delle difficoltà attuali. Il c'è un progetto della NASA che si chiama Artemis che sta per portare sulla luna nel duemila ventisette quindi non fra trent'anni delle delle aziende minerarie già quotate in borsa a New York che stanno cominciando a ragionare a lavorare su quello che possono prendere dalla luna dal punto di vista degli elementi minerari e se tu la trovi al volo Nicola ti rendi conto di quanto sia già mappata la luna per terre rare per materiali che possono essere utili all'umanità che sta che sta crescendo. Certo io credo che bisogna fare a dobbiamo farci anche delle domande sul tipo di vita che stiamo vivendo no? Il tipo di vita che che in qualche modo è associata esclusivamente a queste strutture tecnologiche io dico guarda ti racconterò magari lo portiamo una volta qui in in trasmissione da noi perché c'è un personaggio che a me fa sempre molto piacere raccontare non so se te ne ho già parlato ma è un pizzaiolo che ha riaperto un paese attorno alla sua storia che è quella di Franco Pepe un paesino di cinquemila anime nell'alto matese in si chiama Cagliazzo il suo paese lui ha fatto riaprire le coltivazioni di grano ha fatto riaprire le coltivazioni di olivi hanno riscoperto dei pomodori antichi cioè attorno alla sua figura sta lavorando tantissima gente del posto era un paese che aveva chiuso Nicola hanno perfino costruito un parcheggio multipiano all'interno del paese perché si creava la fila fino a fin quando fin quando la gente non riusciva ad entrare oltre 400 500 persone nella sua pizzeria era un paese chiuso adesso bene attorno a questa persona e si può fare si può fare si possono creare delle strutture economiche locali perché abbiamo le persone e le capacità anche territoriali per farlo piccolo contributo per l'informazione libera e ragionata da un fan di popper anche se non è proprio gli austrici miei popper la stessa è figlio della stessa cultura mitico popper che hanno letto soltanto eh nell'ultima parte sulla critica della televisione non nella società aperta i suoi nemici se l'avessero letti molti dei nostri amanti di popper oggi avrebbero i capelli gritti nel loro sinistrismo toc toc per tutti e toc toc per tutti quanti voi perché 45 minuti a proposito di toc toc ma ti ho visto su tiktok mi sbaglio perché bravo 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 perché c'è nicola porro toc toc su tiktok e perché ragazzi noi siamo qua che ancora pensiamo a facebook a instagram ma in realtà è il l'algoritmo dei cinesi cioè di tiktok è quello che sta crescendo di più ed è non so se posso dire l'altra voce un pochino più libero e ci trovi più roba io su tiktok eh penso di eh puntare sempre con video un po' più brevi tra poi ci andrà anche tu Leopoldo non non fare lo spiritoso perché ti ci vedo toc 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 ecco il mio amico Caby Lame che c'ha centoquindici milioni di follower su tiktok eh cento tra poco è il primo al mondo è centoquindici milioni centoquindici è il primo secondo al mondo presto primo come si chiama? Caby Lame ragazzo senegalese italiano ah come no? straordinario straordinario ragazzo digli di seguirci nelle nostre zuppe così magari ci portiamo a casa oggi così facciamo centoquindici milioni di utenti ragazzi eh con Leo e con ehm Riccardo vi saluto a tutti quanti e penso che la zuppa di oggi sia durata un po' di più rispetto al solito però insomma ne valsa la pena spero per voi perché il tema di cui abbiamo parlato anche se simpaticamente sarà un grande tema l'ottimismo di Riccardo ci ha contagiato quello di Leopoldo pure e speriamo che abbiano ragione che c'è 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 poco altro da dire ciao ciao buonasera buona domenica ciao buona domenica ciao ciao ciao